Noi siamo studenti presenti e dal quarto sit-in che facciamo davanti al Palazzo della Regione. Quello che noi vogliamo è una riapertura in sicurezza delle scuole anche superiori. I microfoni spenti è il simbolo che abbiamo scelto per questa manifestazione perché è così che siamo costretti ormai a seguire le lezioni, ma le lezioni soprattutto alle scuole superiori dovrebbero essere dialogo e stiamo perdendo tutta quella componente anche di cittadinanza che la scuola ci fornisce e di dialogo, di interazione anche con i coetanei. La scuola è un presidio fondamentale, la scuola è un servizio essenziale e ci sono delle cose che nella società non possono chiudere. L'Italia è il paese che ha chiuso per più tempo le scuole durante la prima ondata e il paese che ha chiuso per primo le scuole durante la seconda ondata. La percentuale di focolai nata all'interno degli edifici scolastici è molto bassa, era del 3,5% prima che chiudessero. Lo stesso Conte ha detto in un'intervista che per i dati in loro possesso le scuole non sono focolai, quindi io penso che il governo debba prendersi l'impegno di riaprire le scuole il prima possibile. A livello psicologico è una situazione pesante per degli adolescenti che sono stati tra l'altro dipinti dai media come untori e quindi anche l'ansia di poter contagiare qualsiasi persona ci sia attorno, parenti. Secondo me è stato sbagliato anche il fatto di far passare questo virus come una guerra tra giovani contro vecchi che si è sentita molto nel nostro paese. Poi inoltre per tutti, anche per chi ha la connessione migliore al mondo, la diattica a distanza non può sostituire la diattica in presenza perché ci sono delle dimensioni della scuola come il dialogo e il confronto che a distanza non possono essere portate avanti. Non esiste un rischio zero ovviamente, però esistono dei ragionamenti politici per cui per preservare alcuni servizi essenziali si accetta un grado ragionevole del rischio. In Italia questa cosa sulla scuola non la si è voluta fare, i danni che stanno facendo a questi ragazzi si vedranno fra qualche tempo, sicuramente dopo le prossime elezioni. Quindi visto che l'orizzonte al massimo arriva alla prossima tornata elettorale non gliene frega niente a nessuno. Li si chiude, li si racciacca a loro e gli universitari, quello sarà il disastro per l'Italia. Grazie.